Bentornati in Stellaris, continuiamo la nostra esplorazione costruendo un'altra base stellare qua Abbiamo completato una ricerca, perfetto, possiamo continuare con Energy Credit Però andiamo sulle tecnologie pacifiche, abbiamo anche questo pianeta colonizzabile E' bellissimo avere anche qua sempre i Shantari I Shantari sono gli stessi che abbiamo mandato di là, no? O no? Shantari Grad, si, sono gli stessi Oddio, diventeranno la più grande razza del nostro mondo Shantari Eh, Stan Ok, Shantari Stan Speriamo di non avere un terzo pianeta per gli Shantari Perché non ho veramente idea di come chiamarlo a questo punto Ok, non siamo riusciti A decifrare la lingua della razza con cui stiamo cercando di parlare Continuiamo a costruire qua, qui c'è un gateway Allora, free, donia Cominciamo a fare un paio Un city beat, district e basta Perché non abbiamo soldi E abbiamo incontrato anche gli Z-Alien Non penso di avere altri Non ho assolutamente nessuno in grado di parlare adesso con questi Mentre gli Epsilon Alien ci hanno mandato una grande trasmissione audio video Che ci permette di tradurre il loro linguaggio E dovremmo essere in grado di capirli Eccoli qua Cominciamo a vederli in faccia Non sono assolutamente bellissimi Chissà, magari sono anche una delle razze Tra quelle che abbiamo Allora, construction ship Cominciamo a muoverci fin qua Mentre gli ETA Alien Ehm I Beta Alien invece ci mandano qualcosa scritto in poesia E gli mandiamo naturalmente una bella poesia Sulla amicizia E l'amico è Vabbè, non gli è piaciuto Non gli è piaciuta la nostra poesia Ola Peccato Continuiamo a costruire nel mentre abbiamo completato un'altra ricerca Cominciamo a lavorare sui blocker Allora I nostri ingegneri sono riusciti a rimettere A dare l'energia al computer della nave Al computer della nave Anche se un bel po' dell'hardware si è scassato nello schianto Ovvero nell'atterraggio Diciamo così atterraggio Dovrebbe essere possibile ripararlo Dovrebbe essere possibile ripararlo ma vuol dire Far faticare ancora un po' il nostro team di sviluppo E quindi questo risulta in un malus nella nostra ricerca ingegneristica Perché naturalmente i nostri ingegneri stanno lavorando sulla meganave spaziale Speriamo che la nave spaziale sia effettivamente utile Nel mentre abbiamo colonizzato un altro bel pianeta Continuiamo a espanderci dove possibile Non abbiamo sostanzialmente risorse Ok Ah ok è andato qua Allora La construction ship Potrebbe andare qua Anche se Diamo che ci sia già una colonizzazione in atto Perché non mi da l'opzione di colonizzarla E questo potrebbe aprire un effettivo rischio Siamo riusciti a decifrare la lingua degli Epsilon E sono la crash Repubblic Sullo schermo Interessante E questo ci permette anche di scoprire altre razze Un sacco di razze 1,2,3 Quelli brutti che avevamo già visto Questi ancora più brutti Questi ancora più cattivi Allora voglio essere pacifico con tutti Allora voglio essere pacifico con tutti per il momento Una Questo sistema qua E poi questo sistema qua Perfetto Ok Ambasciate con tutti Vogliamo essere amici di tutti Perché abbiamo un nemico comune E adesso volevo anche andare nel situation log A vedere Se riusciamo a Capire che sono sti Data alien che sono di sicuro Gli amici fungoni Siamo incastrati Abbiamo trovato la Great Human Authority E questi potrebbero essere effettivamente Il nostro pianeta di origine Parla in una lingua strana Ma effettivamente potrebbero essere i nostri Amici galattici E la nostra pianeta di partenza Abbiamo trovato il Gateway Perfetto Potrebbe essere Potrebbe essere quello che va all'Air Sector E nel mentre abbiamo fatto Comunque quattro pianeti Quattro pianeti non è male Come partenza Abbiamo una caterva di risorse E stiamo continuando Allora adesso abbiamo questa qui Cominciamo a cercare le Corvette Ok Costruzioni Vediamo se Intanto possiamo andare qua E cominciare a prenderci questo settore Dopodiché dobbiamo cercarci una via d'uscita E qui potrebbe essere Non so se giocarmela su questo ramo No questa è assolutamente Qua finisce il mondo Forse c'è Una linea che ci porta giù Quindi dobbiamo andare assolutamente da questa parte Quindi una volta completato di qua Continuiamo con queste Con questo sistema Survey System qua E poi questo E poi questo E poi questo Ok Adesso vediamo se Ecco Siamo assolutamente incastrati dentro Ottimo Allora Cominciamo a prendere questo sistema Con questa construction ship Cominciamo a fare una bella base qua Nel mentre qui abbiamo avuto Ho attivato colonization fever Che ci dà un po' più Su tutti i nuovi pianeti Abbiamo un nuovo contatto Siamo tutti molto contenti Bene Ci sono più Avversari di quanto Effettivamente si possa fare Un altro po' di cibo Per favore Anche Anche qua Ok Ok Abbiamo costruito Una base Quindi adesso facciamo le stazioni E adesso Andiamo a vedere Questo Angolo Ma Qui a occhio C'è un altro impero E siamo più o meno Boxed Allora Construzione finalized E forse siamo riusciti Finalmente Accendere i computer Della nave I nostri ingegneri Sono riusciti A far ripartire Il computer Della nave Abbiamo inserito Una IA Che è riuscita A parlare Col computer Abbiamo convinto La macchina A lavorare Con noi Invece che Contro di noi Questo ci ha dato Alcune Rivelazioni Sulla natura Della Ehm Cretazione Migliorare Migliorare Alcune Tecnologie Di Critazione Di dati Speravo qualcosa di meglio Sinceramente Dalla Nave spaziale Dei nostri schiavisti Andiamo qua Abbiamo Anche questo Energy output A posto Ehm Possiamo già andare Sul phantom firewall Ma in realtà Non ci serve Survey speed Più 25 Perfetto Aspettiamo Che qui Perfetto Cominciamo a costruire La base stellare La La nave scientifica Può andare A Guardare Questo sistema Poi questo Survey Non explore Poi questo E poi Questo Ok Abbiamo Lo stability Sul Sulla nuova Colonia Cosa possiamo fare Per migliore La stability Possiamo mettere Giù Dalla polizia Perché c'è Lo stability Non ho idea Uno di questi Non so se migliora Qua abbiamo Dei disoccupati Andiamo a creare Altre miniere E altri alloy Probabilmente E purtroppo Cominciamo A essere Molto vicini Ai limiti Del nostro Impero E cominciamo A ragionare Con i nostri Vicini Miglioriamo Le relazioni Mandiamo Uno dei nostri E' assolutamente Più potente Di noi Come flotta Per un semplice Fatto Non abbiamo Una flotta Possiamo Cominciare A fare Un bel patto Commerciale Siamo riusciti A riparare Completamente Il computer Questo ci dà Più felicità Più unità Eccetera Eccetera A questo punto Abbiamo Un'altra nave Bella pronta Cominciamo Ad andare A guardare I sistemi E la muoviamo Anche qua L'altra nave E ok Abbiamo trovato Un pianeta Candidabile Alla terraformazione Abbiamo trovato Anche delle risorse Qua perché Non le stiamo Sfruttando Allora Parti con Queste risorse E poi muoviti E poi muoviti E cosa abbiamo scoperto Finalmente Le corvette Ottimo Cominciamo Accelerare la costruzione Delle corvette E andiamo a disegnarci Una bella corvette No Non volevo fare Una flotta Volevo fare Una corvette Ship designer Oh ecco qua Cattivissime Le nostre navi Faccio un mix Un mischiotto Uno per tipo Questo invece C'è tutto a posto Uno uno e uno Boost reactor Non serve Penso Auto upgrade Può andare Questa però Non la voglio Allora Allora Questa Non la voglio Mio design Corvetta No Interceptor Ok Red laser Uno Mass driver E nuclear missile Ok Mischiotto Base Quindi vogliamo Scudi Deflettori Due Uno su questo Nient'altro Auto upgrade Auto upgrade Ok Ce l'abbiamo fatta Auto upgrade Questo così Questo così Questo così Il resto è a posto Salva E Copser Va bene Per il momento Come nome della nave Perfetto Abbiamo messo Giusto quel momento A creare La nostra nave Andiamo A Facciamo Ne quattro Quante ne possiamo Fare Venti Cominciamo a farne un po' Giusto per far vedere Agli amiconi Che abbiamo qua Attorno Che non siamo qui A scherzare Abbiamo trovato anche Un bel natural Warm hole Ok Abbiamo trovato anche Altre Miniere Da costruire Non capisco perché Vengono Trovate Dopo Comunque Andiamo ad aprire Tutti i nostri Outpost E abbiamo Una nave Stellare Libera Continuiamo A guardarci Attorno E sarà dura Con la Crash Republic Qua Allora Possiamo fare In 4 Fino a 20 navi Io quasi quasi Anche per Il mio intento Militarista Andiamo E costruiamo La flotta Abbiamo assolutamente Bisogno di un ottimo Ammiraglio Continuo a vedere Questa Questo fatto Che abbiamo Praticamente Solo Umani A disposizione Non che la cosa Mi dispiace Non sono neanche Andato a vedere Le leggi Magari abbiamo Delle leggi Discriminatorie Allucinanti Anzi È praticamente Molto probabile Perfetto Allora Stiamo continuando Ad analizzare Intanto Volemo vedere Con questi qua Sono ancora Overwhelming Nonostante Le nostre 9 corvette Ok Ok Abbiamo trovato I sad e alien Che sono Cattivissimi Quasi Quasi Di sicuro Saranno Qualche forma Di balene Spaziali O robe simili Allora Questa nave Spaziale Può cominciare Ad andare A ricercare Le anomalie E qua Abbiamo finalmente Trovato Un altro Bel pianeta Colonizzabile Qui temo Di vedere Un confine Continuiamo A costruire Miniere Come non ci fosse Un domani E abbiamo Un'elezione Con un po' Di possibilità Non vado In rech E' stato E' stato Eletto E' Praticamente Secure the border La sua Politica In rech Era su questa Nave Purtroppo Quindi Dobbiamo andare A mettere Un altro un altro scienziato, non abbiamo i punti per reclutarlo, facciamo scattare un mese, adesso ci dobbiamo, reclutiamo, perfetto, questa nave spaziale può continuare a ricercare questa anomalia, qui sta costruendo, dopodiché outpost qua, perfetto, qui penso che il confine sia leggermente fuori, qui stiamo continuando intanto a scoprire questi alieni che per quanto stili non sembrano delle balene spaziali, forse dovrei prendere prima questo sistema, non riesco a vedere i punti dove possiamo effettivamente creare dei dei punti di dei punti di come si dice delle strettoie ovvero dove andare a mettere sostanzialmente le basi a difesa del nostro impero, ok abbiamo 22 navi su 21, perché abbiamo questa nave in più, non so bene cosa sia, mi son perso qualcosa, probabilmente uno dei messaggi, sono superiore dal punto di vista scientifico, equivalenti dal punto di vista militare e quindi andiamo a fare un bel patto per la ricerca, ma anche un bel patto di migrazione, potremmo infilarci nella loro federazione spaziale, perfetto, 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 forse sarebbe meglio outpost, ok abbiamo trovato entità cristalline e direi che per questo episodio l'X commis soviet si è espanso a sufficienza, nel prossimo episodio penso che arriveremo al limite della nostra espansione e cominceremo a ragionare sia con la repubblica qua vicino a noi, sia con gli altri imperi galattici, vedo che qui si sono già assolutamente uniti in un grosso, in una grossa federazione, vediamo se riusciremo a farne parte e temo che sarà una partita molto verticale perché non penso di riuscire a espandermi più di così, a meno che qua il Commonwealth of Jib, innanzitutto dobbiamo avere una linea per attraversare fino al Commonwealth of Jib, vediamo se riusciremo ad avere la possibilità di attaccarlo. Tutte queste cose le vedremo naturalmente nel prossimo episodio. Al prossimo episodio!